E' una bella ragazza come te, con questo piede torto, una donna senza marito, e ora senza nemmeno un lavoro. Amore, è pure colpa mia. Devi pregare la beata, solo lei può farti il miracolo. Dieci minuti però, eh, che poi c'ho da fare. Ma che belli sti ricami. Zia, ma non è che me li daresti? Di scarto? Sì. Capiglite, sono le cose più belle che abbiamo mai fatto. Avete i fondi per le emergenze? Ci manderanno chissà dove. La beata veglia su di noi, avanti! Non sarebbe bello se lavorassimo tutte insieme, suore e operaia, e ci dividiamo i guadagni. Ottissimo artigianato, unito a momenti di pura progressione. Vedo, vedo. Scusi sorella, se mi permetto, eh. Quelle cuciono cose peccaminose, non possiamo fare affari col diavolo. Ma se mettessimo dei fiorellini all'altezza dei capezzoli, sarebbe carino, no? Grazie a tutti.